Cosa è la cistometria? La cistometria, nota anche come studio cistometrico, è un test diagnostico utilizzato per valutare la pressione e la funzione della vescica. Utilizzato come strumento investigativo, la cistometria viene somministrata per diagnosticare una varietà di condizioni tra cui i calcoli alla vescica, le anomalie della prostata e le lesioni del midollo spinale. Come con qualsiasi procedura medica, vi sono rischi associati alla cistometria e questi devono essere discussi con un operatore sanitario qualificato prima del test. Durante la cistometria, la vescica viene riempita con un liquido neutro o una sostanza gassosa per testare la pressione e la forza contrattiva della vescica durante il processo di svuotamento. Una volta documentate le misurazioni all'interno della vescica, viene registrata la capacità della vescica di espellere la sostanza per aiutare a determinare la fonte dei problemi urinari del paziente. I dati registrati durante l'esame sono riportati su un grafico noto come cistometrogramma, CMG, per l'analisi. Il volume della sostanza somministrata per riempire la vescica viene contrapposto alla pressione accumulata all'interno della vescica quando si riempie. Ulteriori dati registrati durante il processo di minzione comprendono la durata dello svuotamento, la quantità di urina e qualsiasi ritardo o sforzo che possa essersi verificato. La stessa procedura cistometrica comporta l'inserimento di un cateterre sottile dotato di un cistometro nella vescica attraverso l'uretra. Il cateterre introduce una soluzione salina e un gas di anidride carbonica nella vescica poiché il cistometro misura la pressione interna della vescica man mano che si riempie. Il tempo di consapevolezza iniziale del paziente della vescica piena è documentato con quanto tempo ci vuole per lui o lei a sperimentare la voglia di urinare. Il paziente può sentire un po' di disagio con l'introduzione del cateterre e una forte spinta a urinare mentre la vescica si riempie. La cistoscopia è una procedura correlata utilizzata per diagnosticare condizioni quali calcoli alla vescica, vescica irritabile e anomalie della prostata. Come esame diagnostico, la cistoscopia impiega l'uso di un cateterre dotato di una piccola telecamera che viene inserita nella vescica attraverso l'uretra per valutare le condizioni della parete vescicale. Il riempimento della vescica con soluzione salina fa sì che si distenda consentendo una chiara rappresentazione. Se durante l'esame viene rilevato un tessuto anomalo, può essere eseguita una biopsia. L'intero processo di test cistometrico richiede in genere meno di un'ora dall'inizio alla fine. Sebbene le complicanze associate alla cistometria siano rare, le persone che si sottopongono a questa procedura possono sviluppare un'infezione del tratto urinario. Coloro che subiscono una biopsia durante la somministrazione di una procedura di cistoscopia hanno un rischio minore di sperimentare un'emorragia eccessiva nel sito di biopsia. Sono stati documentati rari casi di rottura della parete vescicale durante il processo di test della cistoscopia.